ciao ragazzi sono simon 88 benvenuti sul mio canale e in questo video continuiamo dopo un po di tempo la costruzione del nostro maggiolino della Volkswagen di Asset ragazzi ce l'avamo fermati al numero 40 abbiamo qua il 41 e guardate quanti fascicoli fino al 48 allora ragazzi vi farò vedere nel dettaglio i pezzi che ci sono da montare poi li monteremo vi farò vedere come è venuto perché la macchina finita è questa ragazzi e abbiamo un totale di 100 uscite siamo al 48 ragazzi sono un po indietro con le uscite perché comunque essendo abbonato con la chat mi arrivano i fascicoli in ritardo quindi ragazzi abbiate un po di pazienza che io la porterò tutta completa sul canale ma se non volete perdere i miei video iscrivetevi al canale e andate a recuperare i video precedenti se vi siete persi i video precedenti quindi ragazzi adesso noi facciamo un bellissimo cambio di inquadratura e andiamoci a vedere i pezzi nel dettaglio andiamo allora ragazzi eccoci tornati questo è il nostro bel telaio con il nostro bel motore che abbiamo già montato nei video precedenti se vi siete persi i video precedenti andate a recuperarli perché è davvero interessante vedere come l'abbiamo montato ma adesso non perdiamo altro tempo vi faccio vedere quello che c'è da montare aspettate che abbasso un attimo l'inquadratura ok vediamo se riusciamo a fare così ok allora qua abbiamo il numero 41 che praticamente c'è da montare allora andiamo direttamente alla fase di montaggio praticamente ci fanno montare i pedali ragazzi acceleratore freno e frizione qua vi faccio vedere tutto il passaggio che c'è da fare poi c'è da mettere il cavo dell'accensione che quando schiacci lo stop si accendono i fari ragazzi è un montaggio abbastanza semplice che poi va messo sul pianale e questo poi è il risultato finale ragazzi poi abbiamo qua il numero 42 e abbiamo la parte posteriore del nostro pianale vedete qua va messo questi pezzi qua vanno incastrati con il nostro pianale poi qua messo la moquette che praticamente va messo sul pezzo che è questo che è di metallo e poi va agganciato al nostro pezzo e questo praticamente è il risultato finale con il nostro pianale adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è da montare e dopo praticamente vi faccio vedere il pezzi montati qua ci sono i parafanghi posteriori ragazzi anche qua da mettere sul parafango la moquette sia a destra che a sinistra guardate qua poi con tre viti dm hanno messe sul pianale e praticamente questo è il risultato con i nostri parafanghi e questo è la moquette che abbiamo montato per far sì che si colleghi con questo poi abbiamo qua il 44 che praticamente si iniziano a mettere i sedili i sedili e qua praticamente lo schienale qua nel 45 ragazzi nel 45 abbiamo la seconda parte del sedile del guidatore praticamente ci fanno montare con le molle i nostri pezzi guardate qua con le molle qua i nostri pezzi e questo è il nostro sedile completo e che poi va montato sul pianale poi qua abbiamo il 46 ragazzi che è praticamente il secondo sedile il secondo sedile che va montato praticamente uguale uguale identico al numero precedente poi abbiamo il 47 ragazzi il 47 che è praticamente anche il montaggio uguale ed è il secondo pezzo sotto ed è questi sono i due sedili montati sul pianale poi nel 48 ragazzi 48 abbiamo il sedile posteriore che praticamente qui ci fanno montare con 6 molle poi con delle viti bisogna chiudere con delle viti a p e poi ci dicono di tenerlo così in stand by ancora non montarlo sul pianale allora qui c'è il nostro pianale che è se lo prendo un attimo allora qui abbiamo un montato allora il che l'ho già preso qua ragazzi a qua abbiamo l'acceleratore il freno e la frizione e questo è il filo che quando si schiaccia praticamente il freno poi collegandolo si dovrebbero accendere i fili dietro qua e sono i parafanghi che vi avevo detto che abbiamo già montato con il suo moquette guarda qua che bello molto 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 realistico ragazzi anche qua molto realistico e questo è il pezzo che praticamente abbiamo montato qua sotto con delle viti a p e 3 e 3 qui e questo ragazzi è di metallo scusate allora è questo di metallo e poi qua abbiamo il suo a moquette praticamente che poi questo anche questo pezzettino qua che abbiamo montato si va a collegare qua praticamente è anche questo si va a collegare qua molto molto bello ragazzi adesso qua ci andranno i nostri sedili che l'abbiamo qua l'abbiamo ragazzi allora questo è il nostro sedile guardate che bello molto realistico ragazzi in tessuto plastica però è molto bello e questo è il sedile del guidatore no scusami del passeggero molto molto bello ragazzi molto molto bello e questo praticamente è il sedile posteriore che ha che bello montato come vi fatto vedere dal fascicolo questo praticamente poi andrebbe messo qui adesso noi ci andiamo a inserire qua i nostri sedili li andiamo a montare questo con questo i due sedili li andiamo a montare e poi vi farò vedere come è venuto e a che punto siamo arrivati con il montaggio allora ragazzi ho montato i sedili sul nostro pianale guardate che spettacolo ragazzi questi si muovono fanno avanti indietro guardate che spettacolo ragazzi spettacolo qua abbiamo il nostro poi posteriore che poi vedremo come andranno messi che adesso qua non lo so praticamente dovrebbe essere messo per così che non mi sbaglio per così o per così ragazzi poi facciamo una prova sul nostro modello guardiamo qua e guardate qua che spettacolo ragazzi capolavoro spettacolo ragazzi allora ho cercato di fare più veloce possibile per farvi vedere quello che ho montato ragazzi così non abbiamo perso tempo nel farvi vedere il montaggio ok ragazzi allora io vi aspetto per i prossimi numeri così siamo arrivati al numero 48 vi aspetto per i prossimi numeri di questo bellissimo maggiolino qua ci manca la nostra ruota che ancora non ce l'hanno fornita ragazzi qui non ho nient'altro da farvi vedere io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao